Io non ho capito che c'entrà, però io sto sperando. Sì, i beni sono della provincia, del mezzo, la struttura del comune. Ma adesso anche in mezzo mi hanno dato un'altra cosa. Allora, detto ciò, c'è questo passaggio che a me non capisco come va. Adesso mi scrivono, e mi mandano un progetto, la proposta è indirizzata al sindaco, cosa hanno messato? Domanda, quanta serie, per quale motivo, se vuoi poter mangiare davanti, quella proposta progettuale della proposta indirizzata al sindaco? E ci direi? Non lo so. So che la comprensione non è stata resa a partire perché dei lavori che bisognava fare, e poi c'è un passaggio di consegne perché bisognava cambiare l'utenza dei condatori.